ormai a un chilometro e duecento metri al termine la situazione è di gruppo compatto si esaurisce l'attacco via Grislebot, vediamo cosa accade in questi frangenti di gara fare l'andatura lì davanti c'è Maiso Scozzo che difende i colori dal gruppo AMTG sta letteralmente frazionando il gruppo la progressione di Scozzo, tra qualsiasi entrerà in azione Iago Mugarnieri ormai sta per essere lanciato lo sprint, meno di un chilometro alla conclusione vediamo cosa accade, sta partendo Riccense con Gaviria che è leggermente chiuso Iwanda è alla ruota di Riccense, è lanciato lo sprint, eccoce l'ingresso nell'arretto in linea d'arrivo Riccense si sposta, c'è Temara a centrostrada, tenta di partire, cale Biwan c'è anche Gaviria, Temara a centrostrada, Temara a centrostrada Riccense la Gaviria, Riccense la Gaviria, Riccense la Gaviria Natural, è che è la camolina incredibile che creda il portacolori e la diva ISM che ci ha regalato grandi emozioni, ci ha dato qualche spazzamento appunto nelle prime posizioni all'interno da Alberto Dainese che oggi a Reggio Emilia ha conquistato indubbiamente la vittoria più importante della propria carriera questo corridore che era stato anche campione d'Europa tra gli angoli del team e oggi c'è posto su Gabilia mentre in